e riviusi a smr ciao a tutti, come state? benvenuti spero tutto bene, oggi andremo a mangiare le super bomboniere ai tre tipi di cioccolato il fondente il latte il cioccolato al latte e il cioccolato bianco quindi ragazzi, cioccolato, bomboniera, cioccolato, bomboniera, cioccolato, bomboniera bene ragazzi, andiamo subito, subito, subito ad assaggiare questa prelibatezza prima però fatemi sapere nei commenti quale secondo voi è il mio preferito il cioccolato bianco, il cioccolato al latte o il cioccolato fondente e poi alla fine vi dirò qual è il mio preferito può rilassare a tutti buona guarda buona 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 Sì, è molto bello. Grazie a tutti. 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 Sono molto buoni tutti quanti, però il mio preferito resta sempre il cioccolato fondente, che è meno dolce, con l'amalongolo e il dolce dentro. Buonissimo. Bene ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, vi do appuntamento, alla prossima. Ciao.